Alfie respira da solo, in braccio a mamma Kate. Ha stupito i medici che prevedevano la sua morte in pochi minuti in seguito al distacco dalle macchine avvenuto alle 22.15 di ieri sera, alla presenza di numerosi poliziotti a quanto riferiscono fonti vicine ai familiari. I genitori hanno aiutato il piccolo di 23 mesi all'inizio con la respirazione bocca a bocca, poi Alfie si è stabilizzato e ha iniziato a inalare aria autonomamente. Dopo sei ore i dottori hanno deciso di tornare a idratarlo, dopo nove ore gli hanno applicato le cannule di ossigeno. Alfie vive e ora le possibilità di portarlo in Italia crescono. La presidente dell'ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoch, in queste ore a Liverpool, ha ribadito che un'equip di medici è pronta a partire da Roma con un aereo fornito al ministro della difesa Pinotti. Ora in forza della cittadinanza concessa gli ieri dai ministri Minniti e Alfano, l'Italia ha il diritto di essere ascoltata e informata sulla sorte del bambino, pur restando il valore delle pronunce delle corti di giustizia britanniche. Per questo è al lavoro l'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, per risolvere diplomaticamente la questione medico-legale, con il supporto, riferiscono fonti vaticane, della Santa Sede. Ieri sera era arrivato il tweet del Papa per rinnovare l'appello ad ascoltare la sofferenza dei genitori di Alfie ed esaudire il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento.